vediamo come funzionano le maschere di livello in after effects in un video precedente avevamo già visto come funzionano i mascherini alfa ovvero avendo un livello posizionato sopra io posso dire al livello sotto che deve essere visibile col mascherino alfa solo in corrispondenza del livello direttamente sopra oppure nel caso lo invertissi mascherino alfa invertito che deve essere bucato solo in corrispondenza del livello sopra questa è una sorta di clipping mask se vogliamo vederla in ottica photoshop non è una vera e propria maschera di livello la maschera di livello si crea in un altro modo ovvero si crea tracciando una forma ovviamente se io non ho nulla di selezionato e traccio una forma ho semplicemente creato un livello forma che ora cancello ma se io seleziono il livello su cui voglio creare la maschera clicco e trascino vedete che quello che sta fuori sparisce io ho creato una maschera a questo punto ovviamente se tengo premuto shift sarà una maschera con i rapporti bloccati se premo la barra spaziatrice posso spostare la maschera prima di rilasciarle quindi posso posizionarla esattamente dove voglio nel momento in cui la rilascio la mia maschera è posizionata a questo punto ci sono una serie di cose che posso fare se la seleziono vedete che ho selezionato l'intero livello quindi sto spostando in giro tutto quanto non solo la maschera per rientrare in modalità di trasformazione della maschera devo fare doppio clic in questo modo nuovamente sto spostando in giro solo la maschera con livello fermo e posso apportare tutte le mie trasformazioni quindi trasformazione libera tenendo premuto shift trasformazione con i rapporti bloccati una volta che ho finito le mie operazioni posso premere invio e uscire da questa modalità questi sono sono maniglie come siamo abituati a vedere sui tracciati e se io le clicco e non sono in modalità trasforma posso distorcere la maschera in maniera assolutamente libera questo è il primo vertice che può essere spostato è il primo vertice è segnato con un quadratino più grande adesso annullo le ultime modifiche è interessante vedere i parametri che abbiamo per la maschera perché noi possiamo attraverso il tracciato maschera possiamo cambiarne la forma anche in un secondo momento abbiamo un rettangolo di selezione con dei numeri che possiamo cambiare l'unità di misura che possiamo cambiare e possiamo decidere di cambiare la forma per esempio io posso trasformare questa selezione in un'ellisse in questo caso essendo a rapporti bloccati diventa un cerchio oppure posso cambiare un valore e l'abbiamo fatta diventare un ellisse un'altra cosa interessante è la sfumatura io posso sfumare entrambi gli assi ma posso togliere la catena e posso sfumare anche un asse solo posso lavorare sull'opacità della maschera quindi in questo caso sto rendendo più o meno trasparente solo quello che sta interno alla maschera posso espandere la maschera che valgono sempre le stesse regole posso anche condensare la maschera farla collassare al suo interno ora vediamo che nel momento in cui io vado a creare una maschera posso usare lo strumento penna nel frattempo con la barra spaziatrice posso sempre muovermi in giro posso usare lo strumento penna per aggiungere dei punti se clicco e tengo premuto creerò un punto in più con una curva besier se invece clicco e basta creerò semplicemente un nuovo punto che poi posso prendere e trascinare in giro è interessante vedere gli strumenti contenuti all'interno dello strumento penna perché per esempio c'è lo strumento con verti vertice con il quale io posso convertire un punto con curva besier in un punto lineare e un punto lineare in besier c'è poi lo strumento bordo sfumato che serve chiaramente a sfumare il bordo nel momento in cui clicco su un punto e trascino sto creando una sfumatura a differenza delle opzioni sfumatura presenti all'interno delle opzioni della maschera posso sfumare anche verso l'interno oltre che verso l'esterno e posso essere molto preciso sul tipo di sfumatura che voglio applicare posso infatti gestirla da tutti i lati ora supponiamo di avere due livelli uguali qui io premo comandi e duplico il mio livello e diciamo di mettere una maschera su uno dei due per esempio una cosa di questo tipo a questo punto non è successo niente perché sto vedendo il livello sotto ok questa è la maschera che ho applicato la maschera può anche essere invertita proprio come su photoshop con il pulsante invertito questo è interessante ora però un'altra cosa interessante è se io volessi copiare questa maschera su un altro livello non faccio altro che selezionarla fare command c a questo punto vado sull'altro livello su che la voglio copiare e faccio command v e l'ho copiata esattamente nella stessa posizione in questo modo e riattivo il livello a questo punto io posso invertire una delle due maschere in questo modo ho preso un pezzo da un livello un pezzo da un altro e posso fare giochi di questo tipo ovviamente le maschere possono anche essere animate nel senso che se io creo una prima maschera per esempio in questa posizione poi posso animare il tracciato maschera e quindi posizionarmi in un altro punto e faccio doppio clic per selezionare la maschera la trasporto in un altro punto e non solo posso anche trasformarla in un rettangolo e quello che succederà è che da un cerchio in uno determinato punto si trasformerà in un quadrato in un altro punto